Sanremo nelle sale della Federazione Periaia, siamo insieme ad Anna Blangetti che è la direttrice artistica della compagnia stabile Teatro di Sanremo esattamente e a breve vi ricordate la figura del compianto Franco D'Imporzano con un brano Saro Franco, una serie di poesie, proiezioni poi ci spiegherai cos'è. Ecco, qual è la prima cosa che ci manca quando pensiamo alla figura di Franco D'Imporzano? Innanzitutto veramente la sua figura, la sua figura di personaggio eclettico che sapeva comporre, che sapeva scrivere, che sapeva tradurre e soprattutto poi sapeva recitare con una forza interiore che era quella che aveva anche nella vita. Ecco, qual sarà più o meno il programma di questo pomeriggio? Questo pomeriggio corrisponde alla terza edizione di questa serie di recital dedicati a Franco che io ho chiamato Recital Multimediali perché in essi vedremo come in oggi, come oggi addirittura degli spezzoni di film che ha recitato insieme al regista Di Gerlando, cioè diretti dal regista Riccardo Di Gerlando che vediamo là e che appunto dove Franco ha interpretato alcuni personaggi. Poi vedremo, sentiremo anche la sua voce perché Franco amava essere definito anche chansonnier di canzoni delle quali lui aveva lo stesso aveva scritto i testi, musicate da Demo Bruzzone e quanti altri oltre a fare parodie di altre canzoni famose. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.